Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è martedì 23 novembre 2021, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV che ci dà la possibilità di conoscere subito il santo del giorno e di vedere quali sono le condizioni atmosferiche. Vediamo il santo, oggi è San Clemente, San Clemente Papa romano, visse nei primi anni dell'era cristiana, negli anni 30, quindi era quasi contemporaneo a Gesù Cristo. Nacque a Roma e fu convertito al cristianesimo da San Pietro durante la sua predicazione. Fu tra i primi suoi discepoli, fu oratore e soprattutto scrittore. A lui si devono preziosi atti dei martiri che ordinò di scrivere poi a sette notai. Arrestato dalle guardie di Traiano, dall'imperatore, fu mandato ai lavori forzati nelle cave di pietra. Alla fine fu gettato in mare perché non voleva ovviamente disconoscere la propria fede. fu gettato in mare con un'ancora appesa al collo, ma anche in questo caso la sua morte fu così circoscritta da dei miracoli che destarono grande sensazione nei fedeli e appunto si aumentarono poi le conversioni alla fede cristiana. Ed ora passiamo al meteo e vediamo che il tempo non è dei più propizi. Vediamo subito la cartina. È una cartina con tante nuvolette, la situazione è instabile, ci saranno anche piogge frequenti nelle medie e basse marche con parziali schiarite sul pesarese, sembra nel pomeriggio. I venti di Bora aspireranno sulle coste e le temperature sono ancora stazionarie ma sono basse e oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi. Ebbene, ciò detto, passiamo subito alla rassegna stampa a partire dalla prima pagina del resto del Carlino. Il titolo di apertura, noi tutti contagiati e lasciati soli. Mamma e papà e bambina di quattro mesi positivi e blindati in casa da due settimane. Nessun medico li visita. È una situazione che abbiamo già preannunciato nei giorni scorsi, quando alcune persone che non possono uscire di casa ma sono affette dal virus non hanno possibilità di avere assistenza. E questo è un guaio che il sistema sanitario deve riuscire a riparare. La fotonotizia centrale è dedicata alla visita a Pesaro da Don Ciotti, il prete antimafia al liceo Marconi, in tribunale e poi al cinema Astra, la lezione di Don Ciotti. Altri titoli richiamati nella prima pagina dal Carlino. Donne e abusi, cinque casi in due giorni. La notizia appare in prossimità della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si festeggia, che si celebra, diciamo meglio, giovedì prossimo. Borgo Massano, il pestaggio in tribunale. Sfilano in caserma i testimoni. E poi ancora un camion abbatte una centralina del metano, paura e scia di fuoco a Cagli, mentre l'ex presidente di Banca Marche, Lauro Costa, fa le sue dichiarazioni e dice che ci fu una volontà politica alla base del fallimento. E poi il Carlino richiama anche due notizie di sport e di spalla per il basket. Moretti, VL, bene così, ecco cos'è cambiato. È una dichiarazione che succede alla vittoria ottenuta nell'ultimo weekend. E per quanto riguarda il malore di Bonafede per il volley, dice sono celiaco, colpa del glutine. Insomma, è la sua malattia che le ha provocato questo infortunio. Ma ci sono anche notizie che riguardano il Natale a Pesaro. Sarà un gran Natale, mascherine obbligatorie, ma solo nel pomeriggio. Una disposizione un po' particolare questa. Mentre ancora in tribunale, un ceffone al figlio, papà finisce alla sbarra. Apriamo subito il giornale di Carlino e vediamo il caso della mamma, del papà e della bimba di quattro mesi, tutti positivi, a casa da due settimane e nessuno li visita. La denuncia è della nonna. La piccola aveva anche difficoltà respiratorie. L'hanno dovuta portare al Codma a Fano per fare il tampone con 38 di febbre. È un grido di rabbia quello di Marina Tosti, ma anche un appello affinché le istituzioni e le autorità sanitarie si muovano. Insomma, soccorrano anche questi casi particolari, che se non sono dei casi globali, voglio dire, con tante persone, hanno però una loro validità individuale. Se un servizio c'è, deve funzionare, altrimenti a cosa serve? Ci sentiamo completamente soli, hanno detto appunto questi familiari. Terze dosi. Tocca ora agli over 40. In poche ore 12.000 prenotazioni sul fronte delle somministrazioni. La provincia di Pesaro Urbino è a oltre a quota 20.000. È la seconda in regione. Intanto però gli hub restano aperti solo per qualche ora di mattina e di pomeriggio. E ci sono in questo proteste, perché ormai l'affluenza supera la disponibilità e le file si moltiplicano. La prossima sfida dal primo dicembre sarà il vaccino anti-influenzale. E in questo sono mobilitate le farmacie. Altra notizia riguarda la giornata contro la violenza sulle donne. E il resto del Carlino qui evidenzia un po' quanti casi si sono verificati negli ultimi tempi. Ma addirittura negli ultimi cinque giorni sarebbero stati cinque i casi, anzi negli ultimi due giorni sarebbero stati cinque i casi di violenza che si sarebbero verificati. È una vera e propria escalation di episodi sul tavolo della Procura con l'attivazione del codice rosso. I dati confermano nel 2020 richieste di aiuto in aumento. E per quanto riguarda il report regionale vediamo che l'aumento si attesta sul 18%. Ma veniamo agli ultimi casi. Cinque nuove denunce solo tra sabato e domenica scorsa, tutte per reati da codice rosso. Tre maltrattamenti e uno stalking da parte di uomini contro le donne. E persino una violenza sessuale di un padre sulla figlia. Così i primi due soprattutto, che sono ormai l'ordine del giorno in tribunale, di più spesso sono addirittura la maggioranza in una giornata di udienze celebrati davanti ai giudici penali. Insomma, sembra che i reati sessuali e i reati di violenza sulle donne prevalgono sugli altri reati di tipo comune. E veniamo alle dichiarazioni di Don Ciotti. La mafia è ovunque, anche qui ha dichiorato il fondatore dell'Associazione Libera, il quale ha incontrato gli studenti dello scientifico col procuratore generale di Perugia e ha ricordato Marcello Bruzzese, il fratello del pentito dell'Andrangheta, che è stato assassinato il giorno di Natale di tre anni fa. Sembra che in questo delitto gli autori vengono ormai assicurati alla giustizia. Almeno dieci imprese in provincia sono in affari con la criminalità, lo ha detto appunto Don Ciotti. La giornata del sacerdote Coraggio è proseguita anche in tribunale per un incontro con i magistrati e al cinema Astra con i pesaresi accompagnato dal sostituto procuratore di Ancora, di Ancona, Daniele Paci. E qui vediamo le fotografie degli incontri che ha denuto Don Ciotti. Questa è l'aula magna del liceo Marconi. Poi vediamo ancora qui Don Ciotti. E infine Don Ciotti al tribunale e al cinema Astra a Pesaro con una platea gremita di persone. Da sabato è già Natale. Ebbè sì, insomma, siamo alla fine di novembre ma l'atmosfera di Natale si comincia a sentire. Però occorrerà indossare il Green Pass. La mascherina sarà obbligatoria di pomeriggio a Pesaro. Sono state presentate in comune le iniziative per le festività. Il sindaco è senza freni, dice che saranno le più belle, non solo della regione ma addirittura d'Italia. Saranno le più belle di sempre in città, uno dei migliori appunto della nazione. Previste le restrizioni legate al Covid, un programma diffuso in gran parte nel centro storico. Così evitiamo assembramenti, ha detto Ricci. Tante saranno dunque le attrazioni che animeranno il Natale nelle vie del centro storico pesarese. Dallo scivolo di ghiaccio in via Curiel alla pista di patinaggio, passando per il villaggio di Natale. Tutte però accessibili solo se in possesso di Green Pass. Per i mercatini e le classiche passeggiate per via Branca, invece, basterà indossare la mascherina che diventerà obbligatoria durante le ore pomeridiane, almeno fino al 9 di gennaio. Sono disposizioni che sono così effettuate per tutelare la salute dei cittadini. Villaggio di Natale. Vediamo anche alcuni prezzi in questo articolo di fondo pagina. Il villaggio di Babbo Natale, situato nei giardini esterni di Rocca Costanza, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, costerà 15 euro a persona, escluso per i bambini da 0 a 3 anni. Il maxiscivolo di via Curiel, invece, costerà 2 euro per i bambini e adulti, ma potranno accedervi solo i bambini da 6 anni in su. Il Wii Pesaro Express, invece, avrà il costo di 4 euro per gli adulti e 3 per i bambini, mentre la pista di patinaggio costerà 8 euro per l'intero e 6 euro per il biglietto ridotto. Banca fallita anche per volontà politica. Lo ha dichiarato l'ex presidente Lauro Costa al processo della BDM. Lauro Costa è uno degli imputati. La svalutazione dei crediti ha svuotato l'istituto, ha dichiarato. È stato il giorno di Lauro Costa, ieri, nel processo per il crack di Banca Marche, in corso al Tribunale d'Orico davanti al collegio penale presieduto dal giudice Francesca Grassi. Dichiarazioni che dovrebbero un po' attenuare la responsabilità dei dirigenti che hanno operato nell'istituto di credito, però è un fallimento che ha creato tante, tante difficoltà a tanti piccoli risparmiatori che hanno visto perdere il proprio denaro. Pestaggio, sfilata di testimoni in caserma, a Borgo Massano, chiamata anche una delle vittime, un ventenne di tavoleto che ha detto di non ricordare il nome del principale aggressore. E questa sembra proprio una ritrattazione a quanto scrive il resto del Carlino questa mattina, perché sulle prime questa vittima del pestaggio aveva dichiarato di conoscere uno degli aggressori. Adesso davanti agli inquirenti dice di non saperne nulla, il che significa che forse c'è qualcosa sotto probabilmente che ha causato il pestaggio. E non dovrebbe essere quella iniziativa estemporanea che si è avuta sul momento in cui le due persone sono arrivate con la loro auto davanti al bar e si sono viste aggredire da un marrocchino che è salito sulla loro auto, poi seguito da una ventina di amici. Ancora da chiarire dunque che cosa è chi abbia scatenato la scintilla che ha portato il branco a malmenare i due ragazzi. Ceriamo ancora pagina e siamo sulla pagina di Fano. Stimolare il cervello per vincere le dipendenze. Il giornale parla questa mattina di una nuova terapia in un centro di recupero privato. Partecipa anche il Dipartimento dell'area vasta di Fano, diretto da Pier Giovanni Mazzoli. Si chiama stimolazione magnetica transcranica profonda e serve per combattere la dipendenza patologica da alcol, cocaina e gioco d'azzardo. Si tratta di una terapia innovativa utilizzata a Villa Silvia di Senigaglia in collaborazione con il dottore Pier Giovanni Mazzoli del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'area vasta 1 con sede a Fano e il professor Marco Diana, ordinario di chimica e farmacia dell'Università di Sassari, uno dei massimi esperti nazionali e internazionali delle applicazioni RTMS. Insomma una nuova pratica, una nuova terapia per vincere le dipendenze. Sappiamo quanto il CERT di Fano sia attivo in questo campo. Ruba le poste preso mentre tenta la fuga. In manette un ventunenne aveva preso un cellulare aziendale e pensate, è stato colto dagli inquirenti, dalla polizia, mentre ancora era a cavalcioni del davanzale della finestra da cui tentava la fuga ed è stato arrestato. Giriamo ancora pagine, vediamo una intera pagina dedicata a un altro personaggio fanese da Silvano Clappis, si tratta di Marcello Di Ottalevi, un artista un po' così eclettico, un poeta visuale, viene definito qui dal titolo, per il quale l'ozio e l'attesa sono condizioni rinunciabili della vita e dell'arte. Ebbene, beato lui che può permetterselo. Non è la Tonelli a doversene andare, ma seri, dicono i componenti della Lega. Ieri hanno così organizzato una conferenza stampa con la quale hanno richiesto le dimissioni da parte del sindaco Massimo Seri. Non usi l'assessore come testa da riete, hanno dichiarato, il sindaco si assuma le sue responsabilità. E c'è anche una presa di posizione dell'Udc dalla quale si evince che dovrebbe poi essere Renato Claudio Minardi a prendere il posto di Seri se non subito, almeno dopo le elezioni del 2024. Il Comune cede i terreni ad Enac. L'annuncio del primo cittadino ieri davanti alla Commissione Garanzia e Controllo che si è riunita per così verificare le ultime vicende dell'aeroporto fanese. Il Consiglio e l'Avvocatura di Stato non si è ancora pronunciate, probabilmente non lo farà mai, per cui il Ministero ha detto chiaro, guardate, che non si può scindere la proprietà dal diritto di superficie. E quindi dovete cedere tutto se lo volete cedere. Apre lo spalterlo paricento, è il flash mob, lo fanno gli uomini. In questo articolo di Spalla, il Carlino pubblica tutte le iniziative che vengono organizzate dall'assessorato alle pari opportunità per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e si comincia proprio oggi pomeriggio quando a Gimarra sarà installata una panchina rossa. Poi tante altre iniziative nel corso della settimana. Estorsione una donna alla trappola dei carabinieri a San Costanzo. Il 42enne arrestato si era fatto dare poco prima a 500 euro che però sono stati fotocopiati dai militari e ora resta in carcere. Vaccini, riparte Lab di Pergola, sarà all'interno dell'ospedale Santi Carlo e Donnino, poi si trasferirà in via Molino della Torre. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico dove la prima pagina è dedicata al passe e le mascherine di Natale che saranno obbligatori per partecipare agli eventi natalizi che sono stati organizzati a Pesaro. E poi ancora una fotonotizia in prima pagina. I giudici, il ragazzino può vaccinarsi, padre contrario, madre favorevole, in questo caso prevale la madre. E poi le tre notizie a centropagina. Pesaro, Adria Busse, verrà presto ripristinato il servizio navetta. Si passa dall'area del parcheggio nei pressi dell'ospedale, quindi poi all'ospedale vero e proprio. A Pesaro, via le Venezia, dio alberi ma a Celletta sono già stati ripiantati, mentre a Fano la lega l'attacco, Seri si dimetta con tutta la giunta. E' una notizia di cronaca, così richiamata a fondo pagina. Cuoco alterato dall'alcol, sferra un pugno al titolare, il ristoratore anche minacciato con un bastone, la polizia bloccato e arrestato il dipendente. Vediamo subito l'interno del Corriere Adriatico. Natale da centomila luci, ma mascherine e pass per giochi e mercatini. Sabato 27 è prevista l'accensione dell'albero, senza però cerimonia questa volta. I gazebo saranno sparsi, il Comune saranno sparsi per non così incentivare l'assembramento. Il Comune è un ricco programma, villaggi e scivoli di ghiaccio tra le novità. Ebbene dal 27 novembre al 9 gennaio ci saranno mercatini e attrazioni in centro. Sabato 27 è l'accensione dell'albero con centomila LED e delle luminarie. Veramente un albero a Pesaro, fanno sempre un albero molto bello. Bambini e famiglie potranno scegliere tra trenino, pista di patinaggio, pista di patinaggio, la pista al scivolo di ghiaccio e il villaggio di Babbo Natale. Saranno delle feste belle se affrontate con rigore. Il sindaco Ricci motiva gli accorgimenti che saranno intrapresi per tutelare la salute delle persone. Adria Bus torna la navetta di via dell'Aquedotto. Il direttore Benedetti presto sarà ripristinato il collegamento. Ci vuole ancora un po' di pazienza, ma presto sarà ripristinato questo servizio. Ad anticiparlo è il direttore, appunto, Massimo Benedetti. Resta da riprogrammare, però, entro la fine dell'anno, la gestione delle corse di linea urbane rimodulate al ribasso. Ma il vero problema, rimarcono i vertici di Adria Bus, è il reperimento di autisti utili a sostituire quelli che non sono vaccinati e quindi non possono lavorare. In Viale Venezia i primi alberi abbattuti, ma alla celletta ne sono stati piantati 54. Il consigliere Pandolfi, intervento della regione, ha compensazione dei lavori lungo il Genica. Ieri mattina, a pochi metri dal punto in cui, qualche giorno fa, si è tenuto il sopralluogo dell'Aspes, i primi esemplari di acacia sono arrivati alla fine del ciclo vitale e quindi rappresentavano un rischio potenziale per i cittadini. Ecco perché sono stati abbattuti e quindi sostituiti da altre piante. Una coppia arrestata per usura a Foggia è il tesoretto sequestrato nel Pesarese. Si tratta di oltre 350 mila euro di beni requisiti nelle perquisizioni, tra cui due appartamenti e una Porsche a Fano. Praticavano questa coppia tassi usurai del 400% e poi usavano anche minacce, ovvero se non paghi ti sparo. Per la prima volta una vittima di usura in territorio foggiano ha deciso di collaborare e di denunciare agli inquirenti questo fatto. L'inchiesta della DDA di Bari arriva anche nel Pesarese perché qui sono stati sequestrati beni per 350 mila euro. Insomma, un addentellato che fa un po' riflettere. In cucina il cuoco è alterato dall'alcol, minaccia il ristoratore e poi lo colpisce un pugno in faccia al titolare. L'uomo, un giovane straniero, è stato tratto in arresto dalla polizia. È successo ieri nel primo poveriggio con la pattuglia della squadra volante della polizia che è intervenuta a sirene spiegate nella zona di strada Montefeltro perché appunto uno straniero era andato in escandescenze. Volontari, prima notte a casa Tabanelli, venite ad aiutarci e l'appello ne uscirete migliori. L'appello è di De Gregorio alla riapertura della struttura di accoglienza della Caritas per il Senzatretto. Non solo riparo per la notte, un pasto caldo, ma anche un luogo dove sentire veramente l'abbraccio della comunità. Ebbene, questo abbraccio qualche volta è anche più salvifico di un pasto caldo perché fa sentire il calore della gente. La casa Tabanelli, la struttura di proprietà della Fondazione Lions per la solidarietà di Via Grande Torino, gestita dalla Caritas di Pesaro, mostra sempre di più, specialmente quando arriva poi la stagione fredda, il suo valore, il suo valore sociale, il suo valore e la sua funzione sociale. Siamo sulla pagina di Vallefoglia. Il ventenne picchiato a sangue non voleva sporgere denuncia, ha preferito andare a casa anziché all'ospedale, retticenze nel ricostruzione. E di questo abbiamo fatto già il commento. Sulla pagina di Urbino invece un camion finisce contro la cabina del gas e scatena alte lingue di fuoco e le case però rimangono salve. L'incidente è accaduto in strada oriana, provvidenziale l'intervento dei pompieri, dopo mezz'ora il caso risoldo da Marche Multiservizi. Comunque si è avuta molto paura perché il gas costituiva un pericolo maggiore oltre alle fiamme. Si devono dimettere sindaco e assessori. Lega l'attacco nella pagina di Fano. Nessun risultato per Fano dal punto di vista amministrativo. Partendo dal caso della Tonelli, di cui si rivendicano le dimissioni, il carroccio ipotizza un'ingerenza del sindaco nel congresso del Partito Democratico. E si ingroviglia la situazione politica fanese. Dopo che l'opposizione va all'attacco della composizione di giunta, il sindaco rimane lì e temporeggia un po' per fare calmare le acque. C'è anche un articolo di fondo che riguarda l'Udc. Fantapolitica dell'Udc. Minardi al posto di Fabiola. E il Corriere considera questa dichiarazione un po' come fantapolitica. Anche del Vecchio e Poligioni chiedono che tutti vadano a casa. Aeroporto per sbloccare il mando di ENA che il Comune deve rinunciare alle proprietà. In commissione di garanzia, ieri sera, definita la nuova soluzione. Consensi per l'amministratore Ruggeri. Ebbene, la nuova soluzione è quella di cedere tutto ad ENAC, proprietà e diritto di superficie, affinché ENAC possa procedere al bando per la gestione, per la futura gestione del aeroporto e possibilmente per il rilancio dello stesso. Ruba a telefonino le poste un anno e mezzo di carcere. Domenica sera arrestato in flagranza di reato dalla volante della polizia. E poi stoppa la violenza sulle donne. Sensibilizzazione per quattro giorni. Il 2020 è stato l'anno nero, complice il lockdown, quando l'impossibilità di uscire di casa ha inasprito i rapporti tra le coppie. A Fano oggi si inaugura intanto la panchina rossa. E vediamo ora le notizie di sport sul resto del Carlino. Vis troppo rinunciataria contro la peggior difesa. L'atteggiamento attendista e il mancato impiego di uomini di qualità hanno condizionato il potenziale offensivo contro la Carrarese. Luce ed ombre dunque incombono sulla vis. La squadra tiene, ma segna solo con il contagocce e solo otto volte su quindici su azione. Mentre Cappellacci esulta per quanto riguarda il primo successo ottenuto alla guida del Fano, il secondo successo in due partite, il Fano ha dato risposte positive. Il nuovo tecnico, dopo la vittoria in campagna, dice bene, ma misureremo la nostra forza con le migliori, con le squadre più agguerrite. All'inizio ero preoccupato, ma ce la siamo cavata anche perché l'avversario aveva dei problemi. Vediamo anche il volley. Buona fede, dopo il malore, colpa del glutine. L'allenatore della Megabox è stato dimesso dall'ospedale. E ancora la VL. Moretti, la cura banchi funziona. Il play guardia, dopo l'exploit di Cremona, merito degli allenamenti intensi e senza arbitro che hanno provocato anche i contatti rudi. Siamo in conclusione. Vi dico anche una notizia sul Corriere Adriatico per quanto riguarda lo sport. Ecco perché la VIS può tenersi stretto anche questo punto. Lo 0-0 contro la Carrarese sulle Corriere è un altro passo verso la salvezza. Il sollievo del Fano invece è doppio. Vinte due partite di fila grazie al blitz di Pietra Melara. E c'è anche la prima volta senza reti subite. Ebbene, Agliano, bravi a prendere subito le misure all'alto casertano e a spingere sull'acceleratore. Bene, squadre, diciamo così, tutto sommato positive. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per la rassegna stampa e invece per le notizie del giorno a questa sera alle ore 20.30 sul notiziario di Fano TV. Buona giornata. Grazie a tutti.